Va ora in onda, Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara. Bentrovati a questa edizione del nostro notiziario. Il GIP, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, ha disposto l'archiviazione di 22 indagati nell'inchiesta madre sul disastro all'hotel Rigopiano quando avvenuto il 18 gennaio del 2017, quando una valanga travolse il resort provocando la morte di 29 persone. Non si ritiene che gli elementi investigativi indicati negli atti di opposizione in quanto i rilevanti possano incidere sulle risultanze investigative precise ed esaustive raccolte dal pubblico ministero, non potendo sminuire le considerazioni da queste assunte nella richiesta di archiviazione e condivise da questo giudice. Pertanto può affermarsi che le risultanze investigative non permettono di sostenere l'accusa in giudizio, ha rilevato il giudice per le indagini preliminari, disponendo l'archiviazione, tra l'altro, per gli ex governatori della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, Ottaviano del Turco e Gianni Chiodi. Escono dal processo anche gli assessori che si sono succeduti alla protezione civile. Secondo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, ai politici non fu indicata dai responsabili tecnici dell'ente la necessità di procedere nel più breve tempo possibile alla formazione di una carta di localizzazione probabile delle valanghe, estesa anche all'area del comprensorio di Farindola Rigopiano. Alla fine la colpa sarà di chi stava in hotel, di chi lavorava a Rigopiano e di chi c'è andato in vacanza, commenta Amaro Alessio Feniello, padre di Stefano, una delle 29 vittime dell'hotel Rigopiano di Farindola. È stato presentato ieri nella sede di Pescara dell'assessorato all'ambiente della Regione Abruzzo il rapporto annuale sulla raccolta differenziata nella nostra Regione. Nel 2018 la percentuale media ha raggiunto il 59,66% con un incremento rispetto al 2017 del 3,68%. Nel 2014 la raccolta differenziata era invece ferma al 47,42%. I comuni con percentuali superiori alla soglia minima prevista dalla legge, che è del 65%, sono 180 su 305. Le frazioni organiche, umido e verde, con una raccolta complessiva di circa 155.000 tonnellate, il 43,04% della raccolta differenziata totale, corrispondente a circa 116 kg per abitante, rappresenta la frazione merceologica più importante e quantitativamente rilevante. Seguono la carta e il cartone, con il 18,73% per circa 50 kg per abitante. La diffusione della raccolta differenziata secondo modelli porta a porta domiciliari, una maggiore consapevolezza dei cittadini e una più efficace collaborazione dei servizi da parte dei soggetti gestori, hanno determinato un incremento della raccolta differenziata mediante una migliore differenziazione dei rifiuti, ha detto l'assessore all'ambiente Nicola Campitelli. In Abruzzo restano però ancora 32 comuni che non fanno raccolta differenziata. Pescara e l'Aquila registrano le performance più basse rispetto agli altri centri più popolosi. Il capoluogo aquilano in ripresa, ma bisogna considerare che le problematiche sono anche dovute al post-sisma. Pescara invece ha il ventre molle, con percentuali tra il 30 e il 40%, che sono basse e che devono essere migliorate. Bene Lanciano, Chieti e Giulianova che superano il 60%. Il servizio porta a porta ha dato buoni risultati anche a Sulmone e Montesilbano. Per lo smaltimento dei pannolini e pannoloni, che rappresenta circa il 3% della raccolta, la regione lavora ad un impianto all'avanguardia di riciclaggio della FATER. La regione Abruzzo sarà protagonista alla conferenza delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la COP25, che si sta svolgendo a Madrid. In occasione dell'evento mondiale, domani, nel padiglione italiano del Ministero dell'Ambiente, sarà divulgata la strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile elaborata proprio dalla regione Abruzzo. Si tratta di un progetto di cooperazione InterregMed, il cui scopo è migliorare le capacità di innovazione delle città nell'area metropolitana con la creazione di ecosistemi innovativi che coinvolgono cittadini, imprese, università e enti pubblici. Il 6 dicembre è previsto invece l'evento Local Adaptation to Climate Change in Mountain Municipalities, cioè adattamento locale al cambiamento climatico nei comuni montani, organizzato da EURAC Research, Lombardy Foundation for Environment, ed è un'importante vetrina dove la regione Abruzzo avrà modo di fare una riflessione su come aumentare la capacità di investimento nel settore energetico delle comunità locali e montane attraverso programmi di cooperazione e sostegno di fondi strutturali per ridurre le emissioni di carbonio, aumentare la sicurezza energetica e combattere la scarsità di carburante, promuovendo la crescita verde. Attività in corso con il progetto Interreg EU Conasece. La delegazione guidata dall'assessore Nicola Campitelli, della regione e dal dirigente del servizio energia Iris Flacco, il prossimo 11 dicembre, sarà impegnata nella presentazione del CDP Carbon Disclosure Project Italy, report realizzato in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente. Attenzione alla circolazione lungo la tangenziale Montesilvano-Pescara. Da ieri sera fino alle ore 6 di mercoledì 4 dicembre, quindi di oggi, chiude per lavori la Galleria San Giovanni tra i due comuni in direzione sud. Quindi il traffico verso Francavilla viene dirottato sulla statale. Il provvedimento, reso noto dall'ANAS, si ripete tutte le notti fino a mercoledì 11 dicembre, quindi per una settimana. I lavori saranno effettuati di notte per consentire la manutenzione dell'impianto di illuminazione all'interno della Galleria. Analogo provvedimento aveva, nei giorni scorsi, interessato la stessa Galleria in senso inverso. Lo svuotamento della vasca di Colmata al porto di Pescara significa porre fine alla Collina della Vergogna, che ha anche modificato il paesaggio costiero e soprattutto realizzare un'opera inseguita per almeno 11 anni attraverso ben tre amministrazioni comunali e regionali, anche di diverso colore politico. Ora non possiamo distogliere l'attenzione dall'obiettivo, ovvero chiudere la gara d'appalto al 18 dicembre 2019, abbiare l'apertura delle buste il 19 dicembre, individuando una data seria che dovrà eseguire l'intervento, e chiudere la procedura per il 31 dicembre 2019, quando dovranno essere esecutive le obbligazioni giuridicamente vincolanti per non perdere i finanziamenti. Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, intervenuto alla Commissione Ambiente, preseduta da Ivo Petrelli, per illustrare le procedure dell'intervento giuridico alla fase esecutiva. Religioni per la pace, questo è il titolo dell'incontro organizzato dall'Arcidiocesi di Pescara Penne per oggi, come occasione di confronto, spiega Sua Eccellenza Monsignora Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne, sul cammino in dialogo dei credenti di ogni fede. Alle 17.30, presso la Sala Convegni della Fondazione Pescara Abruzzo, nel corso Umberto 83 a Pescara, interverranno Mariangela Falà, esperta di buddismo, Mustafa Bazzami, imam di Teramo, Don Achille Villanucci, direttore dell'Ufficio di Cesano per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, per riprendere la storia di un confronto continuo all'arcivescovo avviato da tempo. Ricordo ancora, sono le parole del presule, l'appuntamento di 33 anni fa, l'incontro di preghiera per la pace voluta da Papa Giovanni Paolo II ad Assisi nel 1986, che celebrava, come aperto, il Cantiere della Pace e sosteneva la volontà comune di costruire una casa di dialogo mattone dopo mattone. Oggi è mercoledì 4 dicembre, nella diocesi di Isernia-Venafro, si celebra la memoria di Santa Barbara, vergine e martire, patrona secondaria della città di Isernia, festa in Isernia. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono, sulla costa, cielo sereno fino a metà pomeriggio, nuvoloso nel resto del pomeriggio, coperto nelle prime ore della sera e molto nuvoloso in tarda serata, con temperature da 6 a 11 gradi e venti deboli. E nelle zone interne, cielo sereno fino alle ore centrali e nuvoloso nel primo pomeriggio, poco nuvoloso nel resto del pomeriggio, coperto nelle prime ore della sera e molto nuvoloso in tarda serata, con temperature da 5 a 8 gradi e venti deboli. Il mare è previsto mosso. Ed è tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penni, grazie e risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti.